Sono Padre Eliseo della parrocchia San Bernardino da Siena, in Badesse. Oggi riflettiamo sul passo di Luca 11, 14, 23. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero, è in nome di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse, ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni in nome di Belzebul, ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebul, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano. Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e bene armato fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Gesù si incontra con gli uomini per fare breccia nel loro cuore e portarli ad una conversione sincera che consiste nell'accoglienza del suo mistero di amore e di salvezza. Con i demoni non c'è incontro. Non ci può essere. Essi sono perduti per sempre. C'è solo scontro diretto e implacabile. Il demonio è il male nella sua essenza, sempre attivo nell'annientare tutto ciò che crea comunione e speranza. Vuole distruggere ogni comunicazione per gettare nel baratro del nulla chi gli si avvicina. Paolo VI si esprime così. Il male non è soltanto una deficienza ma un'efficienza, un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. ha perso dunque la strada che porta verso la luce e veglia notte e giorno per sradicare dal cuore dell'uomo ogni impulso che si rivolga a Dio. In questo passo di Luca si dice che Gesù è alle prese con un demonio muto. Il demonio muto è una opposizione irriducibile a Gesù. Gesù infatti è la parola, il verbo coeterno al Padre che è venuto ad abitare in mezzo a noi, perché accogliendolo possiamo con lui entrare nel dialogo di amore della Trinità. Il demonio muto è una specie di demonio che soffoca la parola nel suo nascere per impedire qualsiasi comunicazione, riflessione e apertura. E' un demonio che tiene prigioniero l'uomo in se stesso, occupato solo degli impulsi della propria istintualità, cieco e sordo a qualsiasi richiamo che venga dall'alto. Ma in che modo il demonio muto esercita il suo potere? Prima di tutto impedendo la riflessione. Riflettere, meditare, pensare nella profondità della propria anima è una attività indispensabile, senza la quale siamo trascinati nei gorghi del qualunquismo, del pressappochismo e della superficialità che blocca qualsiasi spinta verso la verità che viene da Dio. In altri termini è la paralisi della nostra coscienza. Essa diventa muta, non parla più, non è più capace di distinguere il bene dal male, non si indigna di fronte al male e non gioisce nella prospettiva del bene da compiere. Quando la coscienza diventa muta, l'uomo, chiuso in se stesso, può commettere gradualmente qualsiasi male. Il rimorso di coscienza comincia ad attenuarsi fino a scomparire del tutto e a lasciar posto a sentimenti che sono legati ai propri assoluti ed egoistici interessi. Tutto scompare attorno a noi, dentro di noi e sopra di noi, per far posto ad uno smisurato e parossistico io, intento a soddisfare le proprie insaziavili voglie. Il rimorso di coscienza, che è un dolore, un morso, nella nostra anima, ci avverte del male che abbiamo compiuto e ci spinge al rimedio invocando l'aiuto di Dio. Il rimorso di coscienza è segno di salute della nostra attività morale e di volontà di fare le scelte che portano al bene. Quanto è importante un continuo, instancabile e giornaliero esame di coscienza, perché essa rimanga attiva e continui a parlare. Una coscienza muta può giustificare qualsiasi orrore e di ciò verso cui il demonio ci spinge. In secondo luogo, il demonio muto vuole impedire il nostro dialogo con Dio che avviene nella preghiera e nella tensione del cuore verso di Lui. Questo dialogo viene interrotto quando, in modo caparbio e continuativo, non rispondiamo agli appelli del Padre che si rivolge a noi nelle diverse circostanze della vita. Il demonio vuole che ci chiudiamo in un ostinato silenzio che non è la base preziosa dell'ascolto, ma l'isolamento totale da Dio nei pensieri, nelle scelte morali e negli atteggiamenti profondi del cuore. Infine, lo spirito del male muto ci spinge a togliere ogni rapporto con gli altri. Essere muti nei confronti degli altri significa non avvertirne la presenza che ci interroga e ci mette in discussione nei nostri sentimenti cattivi reconditi che tentiamo di giustificare trovando il colpevole sempre fuori di noi. Sentimenti di invidia, di gelosia, di rabbia, risentimento e rivalza possono incunearsi nelle pieghe del cuore e sfrattare i buoni propositi di comprensione e di perdono. L'altro viene avvertito come un ostacolo da superare e da sottomettere. In questa lotta tra le trenebre e la luce Gesù è venuto a dirci che lui ha vinto Satana. Per la sua risurrezione e per la sua sconfitta sulla morte ci ha aperto la certezza del trionfo, della vita e del bene. La metafora dell'uomo forte sconfitto da un uomo più forte di lui vuole assicurarci che se stiamo con Cristo possiamo sconfiggere ogni assalto del nemico. Cioè la nostra spinta verso il bene trionferà sulle tenebre sparse dal maligno. Il Signore ci offre la sua presenza nel suo corpo e nel dialogo costante con lui come armatura perché nulla è più forte di lui. solo così i nostri beni cioè l'amore di Dio e dei nostri fratelli nel dialogo continuo possono stare al sicuro. se il commento al Vangelo ti è piaciuto clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Siena Colle di Valdelsa Montalcino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.